ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video scusatemi che se ogni tanto ragazzi questo periodo salto un po di video ma sto sto organizzando un po di cose anche per voi quindi è appunto oggi una giornata in cui sono andato a vedere un posto per una moto tendata se volete essere aggiornati ragazzi andate sul gruppo facebook moto tendata italia come vi stavo spiegando sto organizzando questa moto tendata che dovrebbe essere per il primo weekend di maggio se tutto va bene in zona in zona diciamo colli piacentini e se appunto volete partecipare essere a contatto andate sul gruppo moto tendata italia su facebook e li pian pianino vi daremo tutti i dettagli ringrazio per ora gli amici vincenzo e diego che mi stanno aiutando eccoci qua potete ammirare la diga del molato ragazzi valtidone strade bellissime ragazzi assolutamente e queste saranno parte anche del del giro che faremo appunto durante la moto tendata ma iscrivetevi al gruppo facebook e vedrete questi bei posti sarà numero chiuso vi avviso già quindi chi prima arriva meglio alloggia eccoci ragazzi passo penice ok ultimo andiamo su verso per essere un posto panoramico che non conoscevo qua al passo penice c'è anche un pochino di neve ragazzi ho la spruzzatina di neve bello wow spettacolo ragazzi che bello figaro non sapevo non lo conoscevo sto posto proprio un bel posto che i ragazzi se verrete a moto tendata lo vedrete coi vostri occhi bellissimo ragazzi bellissimo quindi ragazzi ora si ritorna verso casa e niente giornata un po' così da per l'ustrazione di questa moto tendata adesso siamo sulla strada quindi non vi farò vedere tutto comunque ecco il perché sono un po meno presente in questo periodo e noi ci sentiamo alla prossima ciao 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 ciao